Buonasera a tutti, prima cosa sta sei anni fino ad oggi in Italia, ancora non ne parla perfetto l'italiano, ci troverò, penso che tutto fa un italiano, aiutarla, mi parla bene, capire bene cosa sta succedendo al momento. Prima cosa, ringraziamo di cuore la Family Force Presidente di Lei di Empero, poi la Comunità d'Italia di Tibet, Mr. Tenjin Tundeb di Jinjin e ringraziamo perché lui è venuto dalla Colonia, poi altri di tutti, nostra Family Artistic, la televisione, l'organizzatore, la moglie di Gianpero, tutti i organizzatori, ringraziamo un po' tutti, questo prima. Secondo, noi tanto abbiamo parlato del mondo, comunicazione, poi aiutando uno di gli altri che vuole essere il più possibile qualcosa, un benessere, un beneficio aiutando la diversa sofferenza del mondo, le persone, i bambini, i bambini tivitani, i bambini africani, i bambini afghanistani, i bambini iraki. Dal mondo core pensano che vedendo tutta la grandessa grandessa, conoscenza dell'uomo politico, anche tutta la normale famiglia, anche noi artisti tutti, però volevo dire questo. La parte della cultura del Tibet, mi chiamo Dam Choi, perché mio frate è una persona che si chiama Kampa, lui è sposato una signora Taman, sono vivendo 25 anni, con fine dalla Cina e Nepal, tanto del bambino, ho lasciato il mio genitore, una famiglia di Taman, però sta un po' facendo qualcosa corso della nostra tradizione, cosa ha insegnato tantissimo, la religione buddista, diciamo. E' la Bodhisattva Dalai Lama, già vedendo tanti famigli in Nepal, noi abbiamo sofferenze tanti tipitani in Nepal, tanti. Durante questi dieci anni abbiamo c'era più di dieci mila tipitani che è rifugiato in Nepal, l'India, tanto pressione della sinistra politica, sempre mazzano, sempre spingono, sempre quella cosa, tanti manaci che vivono in monasteri di Nepal, quella dona non ha un monasteri, sta tanto, tanto sofferenze, ho ammazzato tanti con la steppe, come si dice, con le bastanzioni, tanto sofferenze, ho tanto morto in Tibet di Persa del Cato, tanti mondo morto così, anche posso, pensiamo questo tutto la morto anima con la sofferenze, preghiamo un'omani peme u, facciamo mezza minuta di meditazione a tutti, per favore. Massimo Lund crypto, insomma un'omani peme u Heroe, un'omani peme u, facciamo mezza mi bitch. S-li un'omani pene u, facciamo mezza di comp ALTI Mitra monitora pronta. ... la mia famiglia possiamo essere nostra anima che ha sentito qualcosa non si capisce mi dispiace tanti capiamo, ci troviamo sentimentalmente la giorno non lo so fino a quanti noi dobbiamo vivere questa samsara adesso parliamo della arte e cultura dal Tibet il disegno della sua tradizione o rappresentazione che insegnamente della Buddha Siddhartha o scuola della Mahayana, Vatrayana Sakayana, Karmaayana, tutti allora parliamo mandala tanto come parliamo del mandala le culture occidentale o orientale, dal mondo mandala, uno e l'unico cerchio di universale mandala allora questo mandala poi costruzione parte da ognuno sulla cultura dell'artista cristiano l'induistica lo so anche i musulmani e la buddista a tutti mandala uno molto leggero usava ogni tanto la fondamentale la nostra generosità che insegnava sacra tradizia arte del mandala quella dimensione che faceva cermonia tanto per rigenerare nuove energie la come terra il centro del mandala come si chiama non ci vedo più questo che è scritto tra tanto le esperienze parliamo la mandala la mandala significa ogni tanto parte dalla arte posso vedere il bel calore bella fino fino a che lavora arte però mandala pitturare anche chiama tanca quella tanca devi pitturare con la d'oro argento sabbia o legno petra tutti che contengono cinque elementi rispetto alla nostra cinque chakra può essere in beneficio parla meditazione tanto il padre della buddista lui insegnava delle cinque daenemi Buddha quella cinque daenemi Buddha che informato mondo libero insegnamento del Dalai Lama non è che se noi ho fatto mandala poi ho presentato tutta la mandala per questo caso ognuno posso leggere il libro del mandala io penserò farà capito questo perché artiste della tibetani c'è tanto difesa ognuno su attività sulla qualificazione sulla idea per fare mandala perché mandala l'unico uno universale però posso mettere tanti insieme adesso intanto ancora non è perfettamente finire il mandala perché anche molto semplice coprire mandala mandala puoi vedere adesso tutto che c'è la tanca poi corrigiato tutto della silk boat quella tradizione tanca che fa quella tradizione la parte del tanca devono essere così insegnamente alla vita allora quello mandala poi ognuno scelta cosa mandala per capire solo vedere questi quattro elementi per leggere un libro già dato ho spiegato tutto questo del mandala tanto non facciamo troppo facciamo leggero perché pensavo tanti da fare il mandala io auguro di capire per tutti questo mandala faccio io tanti questo mandala tanto che mandala che devono essere benissimi soliti per tutti e avanti di lupo alla vita sta bene per tutti questo tradizione mandala tanto ringraziamo tutti e ricercendiamo a più comunicazione di abcini mandala ognuno che voleva domanda più presentare a tutti l'Italo auguri di tutti per la buona serata grazie per venire tutta la nostra gente di carintena e grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti